Musica Buonasera dal Centro Servizi Culturali Aldomoro di San Salvo, che ringraziamo per l'ospitalità, per la trasmissione di speciali elezioni dedicata alle elezioni di San Salvo. Si tornerà a votare il 26 giugno per il ballottaggio e al ballottaggio saranno Emanuela De Nicolis, che ha riportato il 47,90% dei consensi, e Fabio Travaglini con il 42,72% dei consensi al primo turno. L'altro candidato, Giovanni Mariotti, ha riportato il 9,38%. Andiamo adesso ad intervistare i due candidati e per ognuno riserveremo lo stesso tempo, mantenendo anche le stesse domande come le regole della Parcondicio ci impone. Ed iniziamo con Emanuela De Nicolis. Buonasera, buonasera e benvenuta. Lei, come dicevo poc'anzi, ha riportato il 47,90% dei consensi. Innanzitutto il commento a questo risultato. Sì, buonasera. Grazie di nuovo per l'invito. Beh, un ottimo risultato direi. Per un soffio non ce l'abbiamo fatta a primo turno, ma siamo molto soddisfatti comunque del risultato ottenuto. Quasi il 50% dei sansalvesi ha votato per la nostra coalizione, quindi siamo davvero molto soddisfatti e fiduciosi. Vogliamo ricordare la squadra che l'ha sostenuta e la continua a sostenere? Sì, la squadra è composta da quattro liste civiche. San Salvo città nuova è la lista civica capitanata dal sindaco uscente Tiziana Magnacca, che ha ottenuto uno strepitoso risultato. È stata la lista più votata di tutta, insomma, tra tutte le liste. Lista popolare, capitanata dal presidente del Consiglio uscente Eugenio Spadano, che ha anche avuto un buon risultato. Erano le due liste che avevano già partecipato ad altre competizioni elettorali. E le due nuove liste, noi San Salvo, capitanata da Giancarlo Lippis, il vice sindaco uscente, e quella che ho composto io, San Salvo è che pure si sono piazzate bene, hanno avuto un buon risultato entrambe. Ecco, lei si pone come continuità, no? C'è la Magnacca tra le sue liste, lei è consigliera comunale uscente. Questa continuità, quindi, come la vogliamo spiegare? La continuità sarà la nostra forza, perché noi abbiamo un percorso alle spalle di dieci anni di buona amministrazione, di amministrazione concreta, determinata, che ha portato degli ottimi risultati. San Salvo è cambiata negli ultimi dieci anni, insomma, i risultati sono un po' sotto gli occhi di tutti. Tanti progetti sono in divenire, abbiamo tanti progetti per cui abbiamo già la copertura finanziaria, per cui ci auspichiamo di poterli portare a termine noi. Quindi, in continuità, significa proseguire questa buona amministrazione con concretezza e determinazione, avendo, come ripeto, già le risorse, quindi avendo già amministrato, abbiamo anche l'esperienza e la possibilità di portare a termine delle cose iniziate senza perdere tempo. Entriamo un po' nel suo programma elettorale. Alcune idee per San Salvo, alcune iniziative, al di là di quelle che vuole portare avanti, già avviate, ma magari anche quelle che vorrà proprio mettere in cantiere. Sì, noi abbiamo suddiviso il programma elettorale con tre parole chiave, che sono poi i tre valori che ci contraddistinguono e che contraddistingueranno la nostra azione amministrativa, e sono bellezza, educazione d'aggregazione e legalità. Partendo da queste parole chiave, proseguiremo, appunto, con le azioni concrete. Bellezza significa riqualificazione, valorizzazione di tutto il nostro patrimonio che già abbiamo. Quindi ci proponiamo di riqualificare, di partire proprio da qui, la riqualificazione del centro storico, riqualificazione del lungomare, tutto ciò che di più bello ci appartiene. Partiremo e proseguiremo con le opere di riqualificazione anche dei quartieri, l'ammodernamento quindi delle strade, interi quartieri verranno ristrutturati. Proseguiremo anche, bellezza significa anche valorizzazione della cultura, e quindi proseguiremo e porteremo a termine, finalmente, mi auguro, il Teatro Comunale, che è un'opera, un relitto storico, diciamo, che ci ha lasciato la vecchia amministrazione e ci proponiamo di portarlo a termine con i fondi del PNRR. Ecco, lavoro, turismo, sono due temi, insomma, ricorrenti in questa campagna elettorale. Cosa ci dice? Ecco, sul turismo, sempre l'abbiamo inserito nel programma, nella bellezza. San Salvo è una città multidimensionale, è una città agricola, ma anche industriale, ma ha anche vocazione turistica, per cui il turismo rappresenta per noi un po' le nostre radici, la nostra storia. Proseguiremo nella valorizzazione di quelle che sono le nostre bellezze, e quindi il centro storico, tutta la parte archeologica, che probabilmente, insomma, va valorizzata ancora di più, e il nostro lungomare. Quindi anche le piste ciclopedonali, che sono state un po' il fiore all'occhiello. San Salvo è stato il primo comune a terminare le piste ciclabili, sia quella sul lungomare che quella di collegamento con la città. Proseguiremo quindi nel potenziamento anche del cicloturismo, che è un'altra branca importante. In generale del turismo sportivo, quindi anche implementando tutte le strutture sportive che già abbiamo, e cercheremo di crearne delle nuove. Proprio per creare questa forma di turismo, che abbiamo visto funziona molto, il turismo sportivo. E, dicevo, quello archeologico, perché noi abbiamo una serie di reperti archeologici e il centro è valorizzato già con il nostro mosaico, per cui pensiamo di valorizzare questa parte di San Salvo e farla diventare un po', insomma, attrattiva ancora di più anche per quello che riguarda il turismo archeologico. Per quanto riguarda invece le politiche del lavoro, abbiamo già iniziato con la valorizzazione di tutta la nostra zona industriale, perché sappiamo bene che l'amministrazione uscente si è resa protagonista di quello che è l'arrivo di un grande polo industriale che è Amazon, che ormai apre i battenti e a breve sarà sul territorio, porterà nuova occupazione, occupazione per i nostri giovani, occupazione anche per tutti coloro che purtroppo hanno perso il lavoro e quindi hanno possibilità di essere reinseriti. Ci abbiamo investito molto sulle politiche del lavoro. Proseguiremo in questa direzione, quindi non solo implementando il nostro polo industriale, cercando di renderlo sempre più attrattivo, ma anche cercando di valorizzare le politiche di riduzione della pressione fiscale su quelle che sono le aziende già esistenti. Quindi proseguiremo questo dialogo costante con le nostre imprese, cercheremo di valorizzare la zona industriale anche in un dialogo costante con quelli che sono gli enti sovracomunali e l'Arap in particolare. E poi nel nostro programma, ripeto, nella parte che riguarda l'aggregazione e l'educazione, continueremo a dare molta importanza al sociale. Lo abbiamo già fatto, cercando addirittura di destinare una casa del sociale, che è la ex caserma dei Carabinieri, che l'abbiamo intitolata al dottor Roberto Festa, la casa della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza. Quello sarà il nostro punto di forza, partiremo da lì. Abbiamo la struttura adeguata per poter proseguire tanti progetti di valorizzazione del sociale. Quindi daremo importanza alle famiglie, le supporteremo, come abbiamo fatto in questi dieci anni, e implementeremo, se possibile, tutti i servizi a sostegno della maternità, dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia a 360 gradi. Se dovesse diventare sindaco, ha già in mente quale potrà essere la sua squadra di governo, nel senso gli assessori, la giunta? Ma io premierò il risultato elettorale. L'avevo già preannunciato, quindi saranno sicuramente premiati quelli che hanno riportato un maggior punteggio elettorale, e ovviamente premierò anche poi le singole competenze. I primi 100 giorni, se dovesse essere eletta sindaco, questa è la domanda standard? Abbiamo tante cose in cantiere, dicevo, per cui sarà facile iniziare, mettersi subito al lavoro. Innanzitutto partire da quelli che sono i progetti già finanziati, quindi interi quartieri che sono già finanziati. Il progetto sul lungomare, che è anche già finanziato, quindi mi auguro di poterlo portare a termine, non in 100 giorni, ma sicuramente di iniziare i lavori in 100 giorni, e la riqualificazione del centro storico, per cui abbiamo ottenuto dei finanziamenti importanti, e quindi mi auguro di poter iniziare questi cantieri nei primi 100 giorni. A conclusione, ancora 4 minuti tutti per lei, se vuole fare un appello al voto, prego. Sì, io mi auguro che i cittadini di San Salvo continuino ad essere ambiziosi, continuino ad essere lungimiranti, continuino a guardare con uno sguardo rivolto al futuro, e quindi non ci possiamo permettere di tornare al passato, a politiche clientelari, a politiche che non fanno della coerenza il punto di forza. Noi ci proponiamo di proseguire così, con la buona amministrazione, concreta, determinata. Quelli che fanno parte della nostra squadra, condividono con noi tutta una serie di valori, le abbiamo detti spesso in campagna elettorale, ci faremo guidare da questi valori, dallo spirito di servizio, dal senso di responsabilità, e dalla coerenza. Quindi mi auguro che i cittadini di San Salvo continuino a darci fiducia e votino per noi il 26 giugno. Ringraziamo Emanuela De Nicolis, grazie per essere stata con noi e proseguiamo. Grazie a voi, grazie. Continuiamo con una speciale lezione dedicata alla trasmissione a San Salvo. Abbiamo Fabio Travaglini, lei ha riportato il 42,72% dei consensi al primo turno. subito qual è il suo commento a questo risultato. Grazie e buonasera a voi. Un risultato molto importante per noi, soprattutto perché il centrosinistra in questa città partiva dal risultato di cinque anni fa. Un risultato che aveva visto un'amministrazione granitica del centrodestra prendere oltre 7 mila voti. Siamo riusciti a fargliene perdere 2 mila, a provocare il ballottaggio, ed oggi abbiamo un dato lampante. Io e la coalizione del dottor Giovanni Mariotti abbiamo raccolto il 52% delle preferenze. Ciò vuol dire che oltre il 50% dei cittadini di questa città ha bocciato l'amministrazione uscente. Ecco, lei ha citato l'altro candidato. Si parla di ballottaggio, ovviamente. Ci può essere un'ipotesi di apparentamento? C'è un forte dialogo con la coalizione del dottor Mariotti, soprattutto perché siamo accomunati dagli stessi valori, dagli stessi ideali, dalle stesse linee programmatiche. Siamo una grande famiglia di centrosinistra. È arrivato il momento di riunire questa grande famiglia, è arrivato il momento di dire no a questa amministrazione, soprattutto ai metodi autoritari di questa amministrazione. Io voglio sottolineare che la candidata di Nicolis ha uno sbilanciamento all'interno della sua coalizione, una forte presenza egemone della lista del sindaco Magnacca, del sindaco uscente, che ha fagocitato tutte le preferenze degli altri e praticamente un ruolo inesistente delle altre liste civiche e della lista del candidato sindaco. Ecco, a proposito delle liste, ricordiamo quali liste hanno sostenuto e stanno sostenendo la sua candidatura? Noi siamo stati sostenuti da cinque liste, la lista del Partito Democratico, la lista del Partito Socialista, che sono le due liste di partito, e da tre liste civiche. Una lista fortemente caratterizzata a sinistra, la sinistra civica ecologista, la lista civica del candidato sindaco, la lista più san salvo, e la lista proveniente dal Partito Popolare Europeo, azione politica. Ottanta candidati che hanno avuto risultati brillanti, che hanno avuto una grande penetrazione, perché hanno saputo dialogare con i cittadini, che ringrazio singolarmente. Ringrazio loro, ma soprattutto ringrazio i 4.700 cittadini che ci hanno premiato, dandoci fiducia e permettendoci di arrivare al ballottaggio. Il 26 giugno siamo convinti che riusciremo a chiudere la partita. Lei si pone in maniera discontinua, per la discontinuità con l'amministrazione uscente. Quali sono i temi che porta avanti? Il tema principale è di sicuro il recupero di un ruolo forte di San Salvo. Un ruolo forte contrario a quello che ci ha visto isolarci negli ultimi anni. Noi abbiamo perso rappresentanti a tutti i livelli. Grazie all'amministrazione uscente, grazie alla candidata sindaca De Nicolis, noi abbiamo perso consiglieri regionali, abbiamo perso consiglieri provinciali, abbiamo perso rappresentanti sansalvesi nei luoghi che contano. Noi dobbiamo tornare a dialogare con il territorio, dobbiamo essere il capofila di questo territorio, della bella Valle del Trigno e del Sinello, ma soprattutto dobbiamo essere un polo attrattivo che diventa la porta sud dell'Abruzzo, che torna a fare sviluppo, che torna a fare economia, pensando all'ambiente, pensando alla salute dei cittadini, ma soprattutto pensando al futuro. Ecco, questa è la sua visione globale sul ruolo che dovrà avere San Salvo. Vogliamo entrare un po' nei temi del suo programma, nelle idee che ha per questa città? Noi dobbiamo innanzitutto pensare al lavoro di questa città. Arriverà, proprio in questi giorni hanno annunciato l'apertura delle selezioni per Amazon, ma non è solo Amazon a San Salvo. Noi dobbiamo tutelare le piccole e medie imprese della nostra città, che sono ancora in difficoltà, soprattutto dovute alla grande pressione fiscale e alla mancanza di strategicità di San Salvo. Dobbiamo recuperare investimenti nelle piccole e medie imprese, dobbiamo pensare al commercio, dobbiamo pensare all'artigianato, dobbiamo pensare ai lavoratori del turismo. Una delle nostre prime azioni che faremo è proprio l'attivazione di uno sportello lavoro a San Salvo, uno sportello per chi cerca lavoro, uno sportello per chi vuole fare impresa, per attrarre i finanziamenti europei e tutto quello che serve a chi oggi ha una partita IVA. E poi dobbiamo pensare anche allo sviluppo sostenibile, soprattutto all'ambiente, alla qualità dell'aria, alla qualità dell'acqua, a creare una città più verde. Abbiamo in programma di individuare due grandi parchi urbani, uno in centro città, che abbiamo individuato nell'area vicino al cimitero, dove l'amministrazione invece vuole costruire un forno crematorio per defunti, e uno grande alla marina, dove abbiamo un grande patrimonio, la fantomatica particella 18, sono terreni comunali oggi non utilizzati e che preserveremo dalla cementificazione e dai palazzinari. Se dovesse essere eletto, ha già in mente quale potrebbe essere la sua squadra di governo? La mia squadra di governo sarà composta da 16 persone e non soltanto dai 5 assessori, proprio perché noi vogliamo valorizzare il consiglio comunale. Tutti i 10 consiglieri di maggioranza avranno una delega specifica, in base alla loro competenza, in base alla loro voglia di fare, alla loro passione. Così come anche chi vuole partecipare dall'esterno, non eletto, potrà partecipare, perché attiveremo delle consulte tematiche, attiveremo i comitati di quartiere, attiveremo una grande partecipazione dei cittadini, perché chiunque di qualsiasi partito vuole partecipare al benessere della città e a costruire un futuro migliore è il benvenuto nell'amministrazione Travaglini. E sempre se dovesse essere eletto i primi 100 giorni, è una domanda questa standard un po'. Abbiamo delle emergenze a San Salvo che dobbiamo risolvere nei primi 100 giorni. Innanzitutto, come ho già detto, io stralcerò dai programmi dell'amministrazione e la costruzione del forno crematorio vicino alla scuola e vicino al centro urbano. Primo tema. Poi riapriremo lo stadio Davide Bucci e quell'area che diventerà un polo per i servizi sportivi. Attiveremo un piano strada e un piano traffico, perché dobbiamo rendere più agevole la circolazione dei mezzi e delle persone a San Salvo, anche con l'attivazione di mezzi sostenibili, come delle circolari elettriche che possono trasportare i cittadini in centro città e alla Marina. Apriremo una sede comunale alla Marina e avvieremo l'iter per una manutenzione vera e straordinaria dei quartieri che sono troppo abbandonati, compreso un piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Adesso il mio timer dice che ha ancora un paio di minuti e li lascio per un appello al voto. San Salvo è una città che in passato ha saputo dimostrare di fare squadra e ha saputo crescere, ha saputo attivare tutte le forze buone della società per fare sviluppo, per creare lavoro. San Salvo negli anni Sessanta era una città di 3.000 abitanti, ha saputo diventare una grande città di 20.000 abitanti. Ora deve sentirsi città. San Salvo deve tornare ad essere ambiziosa, ma per farlo deve tornare a premiare le grandi energie di questa città, a partire dai giovani. I giovani che hanno bisogno di luoghi di aggregazione, hanno bisogno di potersi esprimere per creare forze nuove, per creare soprattutto lo sguardo verso il futuro. Allora c'è una grande occasione. Abbiamo saputo dimostrare che il 52% dei cittadini crede che è possibile migliorare San Salvo affidandosi a una nuova amministrazione. Allora io chiedo a tutti i cittadini un ultimo sforzo. Chiedo di andare a votare il 26 giugno, di andare a votare per il cambiamento, di votare per questa squadra. È molto semplice. Basta barrare sulla scheda elettorale il nome Fabio Travaglini e rendere possibile il cambiamento. Questo lo faremo e dal giorno dopo i cittadini avranno un'amministrazione che prima di parlare sa ascoltare e far parlare i cittadini. Bene, ringraziamo Fabio Travaglini. Grazie per essere stato con noi. E si conclude qui la trasmissione speciale Elezioni che Reteotto ha dedicato alle elezioni di San Salvo al ballottaggio del 26 giugno. Grazie per averci seguito e ringraziamo anche il Centro Servizi Culturali Aldomoro di San Salvo che ci ha ospitati. Buona serata. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.